Domanda, perché il Dalai Lama dice Amico mio, non mi interessa la tua religione e nemmeno se sei religioso o no. Per me ciò che conta è come ti comporti con gli altri, con la tua famiglia, con i tuoi colleghi, con la tua comunità e con tutti quanti. Quindi, ricordati che l'universo è l'eco delle nostre azioni e dei nostri pensieri. Il Dalai Lama risponde così perché sa che la religione definitiva è quella della coscienza. Grazie